L'isola è considerata una base della CIA. Voglio che quei mercenari credano che stanno liberando la popolazione. John Seeger, il soldato più decorato della prima guerra del Golfo. Saprà che ci siamo noi dietro. Non sapevo che mi avrebbero usato in questo modo. Sto venendo a prenderti. Steven Seagal. Mercenari for Justice. Mercoledì alle 21, sul 20.